Dopo l'annuncio di Beppe Grillo che intende fare un passo di lato nel movimento, i 5 Stelle discutono della scelta del leader, Francesco Cristino. Nei 5 Stelle non è nato nessuna successione, all'indomani del passo di lato di Beppe Grillo pronto a lanciare il suo nuovo spettacolo teatrale per riconquistare, dice, la mia libertà. E Luigi Di Maio a smentire nell'immediato una nuova fase nella leadership, nessun parricidio mette in chiaro se svolta sarà, arriverà più avanti alle politiche, fino ad allora spiega il focus rimane sui temi, non sulle persone. Il movimento cammina con le proprie gambe, Grillo resta garante e la linea, ma la mossa del leader che segue quella dell'eliminazione del nome dal simbolo e non ultima l'eclissi sul caso quarto, ha prequisiti sul futuro. La stessa vicenda del comune Flegreo ha ancora vistosi strascichi dal rumore per l'assenza di Fico dal palco di Arezzo, dove ieri il movimento ha incontrato i risparmiatori coinvolti nel caso Etruria, rilanciando la riforma di Banca Italia alla squadra ad hoc annunciata da Di Battista per monitorare i comuni amministrati dal movimento. L'obiettivo restano le amministrative Roma in primis, a partire dalla trasparenza delle candidature sulle quali la riserva non è ancora stata sciolta in vista della selezione online.